Quando una biblioteca scompare, quando una libreria chiude i battenti, quando un libro si perde nell'oblio, noi i custodi di questo luogo facciamo in modo che ripetiamo. E qui i libri che più nessuno riporta, i libri per tutti nel tempo, vivono per sempre. Abbiamo individuato un'area dove poter costruire il paradiso dei libri. È un progetto che intende coinvolgere gli amanti della lettura, quelli che non potrebbero fare a meno delle parole raccontate dai tempi. Vogliamo realizzare un luogo di silenzio e cultura, un grande progetto che ambisce a conservare per sempre i libri dimenticati. Una libreria a cielo aperto dove chiunque potrà entrarvi, cercare, trovare e scegliere il proprio libro da leggere. Sedersi ed immergersi nelle parole che scordono su uno schermo tra il brusiero e le foglie degli alberi e il cinquettino degli uccelli. Ognuno di questi libri è stato salvato da una libreria che ha chiuso i battenti, dal macero e da una soffitta, affinché esso sia adottato anche da te nel paradiso dei libri dimenticati. Ogni libro sarà crepettato, messo al sicuro da intemperie con l'ausilio delle più avanzate tecnologie per preservare il tempo. Tocca ora a te affinché questo progetto si realizzi. Grazie 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 Grazie